buongiorno a tutti quanti oggi come vedrete dal titolo video su quelli che per me sono i migliori marchi in circolazione dopo magari ce ne saranno anche adesso è difficile alcuni devo ancora provare che ho a casa è difficile sempre prender dentro tutto però ci tengo a parlare di quelli che mi hanno colpito maggiormente e spiegarvi anche il motivo per cui li reputo tali quindi partiamo dai prezzi più bassi perché giustamente le cose vanno valutate che in base al prezzo che hanno e io li valuto anche in base a quello quindi prodotti di alesia ucraini arefa sop teniamo conto e costa meno di 20 euro un set soprattutto quelli talovati quelli vegetali devo ancora un po provare però quello talovato sono ottimi allora c'è da dire una cosa ci sono certe profumazioni secondo il mio parere quelle con che imitano un po profumi famosi che non tutte sono uscite secondo me come sarebbero dovute uscire però soprattutto quelle tipo the unforgiving ma anche questa qua altre profumazioni che ha fatto lei quelle più tabaccose quelle anche un po più fumose coco cuoio così sono una più buona dell'altro quindi profumazioni ottime after ottimi limitivi e saponi con ottime prestazioni quindi qualità prezzo questi sono ottimi è vero parliamo dell'ucraina che non è l'italia con le tasse che ha tutto però ragazzi per il momento qualità prezzo questi sono a top in più diamo anche un sostegno che male non fa senza parlare di politica e parliamo di persone che comunque subiscono o vivono in un ambiente che non è dei migliori in questo momento dopodiché parliamo di un altro prodotto che secondo me non se ne parla ancora abbastanza a breve importerò anche una novità e saprete anche che stiamo lavorando per qualcosa per il gruppo ma ve lo farò sapere più in là westman utopia ragazzi questo qua è il miglior marchio europeo tallovato e secondo me si mangia anche tanti tanti americani e su epoca barboria su vanity stock ragazzi questi quali portate a casa un set sotto i 20 e sotto i 30 euro ragazzi il set profumazioni fantastiche alcune sono un po particolari per carità devono piacere però come su tutto utopia alma c'è ragazzi miei sono una bomba a mano e questo anche come persistenza veramente ottime quindi ottime profumazioni ottime prestazioni ottimo prezzo utopia westman alma comunque westman come marchio dopodiché restiamo sui tallovati declaration grooming per fortuna che sono ancora americani speriamo che non arrivino qualche non perdano tre quarti delle profumazioni per strada allora io consiglio in questo caso soprattutto a parte questa che forse quella che mi ha colpito di più però quelli in collaborazione con cat in lux secondo me sarà che sono in collaborazione con di profumi con un profumiere con la casa di profumi hanno un passo in più però profumazioni fantastiche resa del sapone veramente ottima after l'initivo non brucia persistenza ottima set da paura ragazzi set da paura dopodiché restando in america parliamo di quello che per me ad oggi è il miglior vegetale americano molti parlano tanto di steve nix ck 6 sono ottimi nelle loro prestazioni ma io trovo il sonter rich craft più bilanciati intanto costano metà se non meno di metà comunque metà sicuro ragazzi sono bilanciatissimi scorrevolezza protezione post rasatura hanno tutto ad altissimi livelli l'unica tra virgolette pecca sono le profumazioni che molto spesso sono particolari perché sono ispirate comunque film ora libri oro e quindi hanno profumazioni mari cup e molto molto particolari al naso però se beccate una due profumazioni che vi piace ragazzi miei secondo me qua in america con questi vegetali non ce n'è per nessuno e adesso piccola menzione d'onore per un prodotto francese che logicamente fa testo solo lui di per sé non anche se è fatto dalle per luci e ma non c'è niente a che fare con qualsiasi altro prodotto di le per luci anche io abbia provato quindi qui parliamo di un capolavoro a sé che è il spam fatto il video quindi comunque li trovate tutti questi prodotti provati sui miei video ispan ok vabbè tirando via 10 euro della spedizione della francia comunque 70 euro il 7 però ragazzi miei sapone duro quasi duro è una pasta di sapone non è durissimo però abbastanza dura ma ragazze la profumazione che se fossero arrivati veramente tra le magico oro incenso mira così e mi deve essere aperti sopra probabilmente avrei annusato questa meraviglia quando è veramente profumazione fuori di cranio che questa fatta con un profumiare non per nulla quindi in più ma ti paghi anche la ciotolina che è una meraviglia quindi ci sta nell'insieme avere un set che quando lo uso e guardo lo annuso mi fa sognare adesso entriamo in italia allora piccola menzione d'onore per due arsob che sono una può dire una certezza per me che sono saponificio valesino per noi italiani e comunque martin de candre per la francia hanno le loro peculiarità io sono più per sapone un pochettino più moderni con un po più di prestazioni anche per il fatto della mia pelle molto dedicata delle mie difficoltà quindi gli do una menzione d'onore perché come arsob sanno il fatto loro chi per la sua storia per la sua saporificazione per la durata del sapone comunque per le prestazioni che da anche sul post rasatura martin de canda me da qualche problema comunque saponificio valesino anche se non mi fa impazzire l'after molto colloso piccicoso non anche il sapone come protezione per me non è proprio estramassimi livelli però sono due prodotti ragazzi che ci sono sono presenti fanno loro e bisogna non si può non fare una menzione dopo di che tralascio le fasce minime perché quelli non ci hanno bisogno di essere difese sono quando voi pagate in apro raso un euro due euro ragazzi che cosa gli volete dire cioè vive voglia di prendere tutto il resto eliminarlo perché vi fate la barba benissimo con un euro però chi ha una pelle come la mia o certe esigenze che piace a portare la rasatura tradizionale un certo livello sia nella profumazione che nelle prestazioni via dicendo e sono fantastici nel loro fascia di prezzo ma gli rimangono per come la vedo io quindi super menzione d'onore ma restano fuori classifica citazione adesso perché secondo il mio parere questi sono i due top a livello italiano è perché non mi sento di metterci insieme altri marchi perché ho voglia di screditarli perché ho un interesse a portare su questo più di questo questo meno di quell'altro no ve lo spiego io perché perché qui dietro allora quando si arriva un certo ormai oggi facciamo mettiamola così ormai oggi siamo arrivati ad un livello che tanti saponi fanno bene il suo lavoro cioè quando lo spendiamo 40 50 euro ormai che prendiamo un maria e prendiamo anche tfl che prendiamo anche certi extro magari comunque bene o male bene o male il loro lavoro lo fanno cioè non è che tu ti fai la barba e dici cavolo mi sono massacrato zero protezione scorrevolezza pessima posta rasatura seco no sono tutti dei prodotti che funzionano ma allora perché io dico che qui c'è una differenza perché io direi appunto al top e altri non riesco a metterli almeno lo stesso livello io li trovo un altro livello sotto però magari costano quasi gli stessi soldi perché perché primo motivo per questo qua ragazzi miei a parte le prestazioni assolute quindi montaggio protezione posta rasatura ma che magari anche con qualche altro set tipo anche tfl fa il suo bel lavoro perché io a fine rasatura posso mica dire che è stato pessimo ha fatto bene il suo lavoro magari esempio che come protezione forse marrakesh e forse anche un filino sotto questo secondo me è superiore però se la possono giocare costa anche 10 euro in meno un set se la possono anche giocare ma ragazzi anche solo mettiamo anche solo la prof le profumazioni e la qualità e la pulizia e la lavorazione di questi aftershave secondo me già già casca il morto qua perché vi dico questo perché questa profumazione qua per arrivare questa pulizia questa qualità viene macerata 40 50 giorni la profumazione ci immaginatevi ci vorrà un mese un mese e mezzo di maturazione del sapone c'è dietro a parte ci sono due cose dato la ricerca testa della profumazione perché fare profumi che assomiglia ad acqua di giudice o del savage compri beh o mali mix già fatti ok o di qua o di là compri mix già fatti dimetti nel sapone la profumazione tante volte cosa succede dopo in i casi di che nel sapone senti una cosa nell'after ne senti un'altra perché magari si mangiano parte della profumazione che nel sapone tiene nell'after no quindi anche lì non trovi una continuità ma qui ragazzi me c'è una qualità della profumazione della ricercatezza è come dire perché se un profumo commerciale lo pago 50 euro devo andare a pagare 200 euro un profumo di nicchia proprio perché ci sono componenti delle profumazioni ricercate c'è uno studio dietro c'è una lavorazione nel crearlo enorme e quello ragazzi fa la differenza cioè se io pago 50 60 euro un set non mi può dare solo una buona sbarbata perché io con 15 euro mi porto a casa di qui i saponi che non mi faccio solo una buona sbarbata me la fantastica la sbarbata quindi se pago 25 30 euro un sapone non mi può dare solo una buona sbarbata deve dare anche dell'altro quindi o che comunque che qua c'è una lavorazione sulla profumazione ma fatta in modo diverso più sulla qualità cosmetica del prodotto perché qui ragazzi ci sono dei componenti cosmetici che sono usate su creme di altissimo livello quindi qui c'è la cosmesi qui avete un prodotto ragazzi che qualsiasi che lo prova non ha mai avuto un post rasatura come questo accoppiato un sapone ad after lo usate due tre volte avete la pelle che neanche vostra moglie che che si mette sieri e creme tutti i giorni arriva un livello di post rasatura come questo anche le profumazioni sono meno sparate spinte anche se secondo me borotaico comunque se la gioca bene magari di pantalai però hanno una qualità della profumazione contiamo che mi tempo a 150 componenti nella profumazione un bouquet di oltre 50 fiori e quando uscirà l'eau de parfum la ne vedremo veramente delle belle comunque profumazioni elegantissime strutturate magari chi è abituato ai 23 oli essenziali sparati di magari fa anche fatica apprezzare in qualcosa del genere ma qua ragazzi c'è una uno studio della profumazione un lavoro dietro che non è comprare un mix di oli che assomiglia a qualcos'altro e mettercelo dentro qua c'è una progettazione che è durata veramente anni e questo risultato un prodotto cosmetico di altissima fascia senza nessun tipo di compromesso tutto per la cosmesi della pelle e lo si può dire con tutte le certificazioni che c'ha dietro di sé pantalai ragazzi sono profumazioni fantastiche se quando voi usate una cosa del genere non ci assomiglia niente altro vi fate un viaggio olfattivo che non lo fate nessuno dopo su gusti c'è chi può piacere o no ma la qualità è di livello di nicchia quindi se io pago 50 60 euro un set mi aspetto che mi debba dare un qualcosa che altri sapori non mi danno altrimenti per come la vedo io se li possono ottenere questo è il mio punto di vista perché oggi purtroppo il mercato è inflazionato è strapieno di prodotti ok allora io sono un appassionato come ve l'ho sempre detto lavoro in fabbrica mi compro le mie cose io valuto quello che mi offre mercato quindi se io monto su una ferrari che mi si staccano le cuciture o quando accelero fai 100 all'ora invece di fare i 300 dico ma cavolo ma perché allora devo fare una ferrari vado via con con la mia punto che perderà qualche pezzo ma mi porta comunque dove devo andare e non mi faccio problemi più risparmio se pago un prodotto ci sta a pagarlo e ci sta che ci siano anche più più produttori che lavorano a questo livello qua ma se mi fai pagare un prodotto un tot di soldi ok che comunque ragazzi 50 60 stiamo parlando di 50 60 euro ragazzi ma forse ci stiamo dimenticando cosa stiamo 50 60 euro di un set di un sapone un'altra c'è devi darmi qualcosa di memorabile fantastico e io quando uso un set come questo sento questo usando qualcosa di unico di fantastico di meraviglioso quando uso questo io sento che non c'è nient'altro che mi dà quello che mi dà questo sapone sul mercato altrimenti i ragazzi mio ragazzi miei o più di 20 di 30 35 to 40 euro di un set non ce li do se devo solo farmi bene la barba ma dopo un uso sapone sa poco di niente o si buono ma uguale a tanti altri perché dovrei spendere 60 euro 50 55 euro per quale motivo che quando con meno di 30 euro mi compro un westman che spacca da paura o con 25 30 euro mi compro un ax vegetale quello con la birra che fantastico fa benissimo il suo lavoro c'è chi è che me lo fa fare perché dovrei farlo ma già anche un tfs sui provate eccentrico pkv che ha fatto e quindi mastro michele serie più più burrose che hanno fatto ragazzi di quelle performance fantastiche vi fate una barba una signora gran barba quindi per quale motivo dovrei spendere tutti questi soldi questa è la mia domanda quindi a me dispiace non è a me non interessa c'è ma ci mancarebbe che voglio screditare un produttore o meglio di un altro a me non me ne frega niente io valido le cose per quello che vedo se ti metti in una fascia di mercato ben specifica quindi una fascia alta di mercato devi dare un qualcosa di unico e basta altrimenti ragazzi miei per carità lo provate vi fate una buona barba dico mica di no però me la faccio con metà soldi uguali e magari anche con profumazioni più ricercate perché comunque west costando anche 30 euro un set se non qualcosa meno con gli sconti che abbiamo su epoca o su vanity con un saponcino così questa formazione qua è fantastica ragazzi miei io non ne ho sentite tante pop uguali a queste alma è fantastico ed è abbastanza unica ad amassor è unica geres è unica quindi parliamo comunque di profumazioni che non sono a livello di questi che non sono a livello di questi ma sono fantastiche che io me le godo da paura quindi ragazzi miei queste sono le questioni è passato molto tempo ho provato tante cose una volta restavo stupito già per dei prodotti che perché dopo ho provato alto quindi quando tu hai un quadro più ampio della situazione cominci anche a selezionare in base a quello che ti dà in una fase di prezzo e questo queste sono le mie considerazioni personali quindi ragazzi li provate dopodiché mi dite la vostra questi sono per me il top che ho provato fino ad oggi ma di domani uscirà un altro set o altri due tre marchi che porteranno ancora più in su le asticella ci sta e magari uno di questi scalerà un pochettino di classifica ci può stare logicamente è un andare sempre avanti uno non può far vedere adesso una macchina di 40 anni fa e dirmi alle prestazioni delle macchine di adesso devi mantenerti aggiornato cioè sono saponi tipo come martin decante che hanno fatto la storia che hanno un lavoro dietro tutto che sta bene nel suo angolo di mercato e da lì nessuno lo smuove va bene così ma hanno il suo perché altrimenti nel tempo o bassi prezzi che fai una cosa basilare altrimenti se tieni certi prezzi devi darmi qualcosa che nel mercato non trovo questo è il mio pensiero quindi ragazzi miei questo è il top a livello italiano perché c'è una profumazione che non trovi nessuna parte in giro sbatte qualsiasi americano after super pulito super raffinato macerazione lunga di componenti una profumazione che ha un'evoluzione mostruosa non è che allusi sa di sì di questo questo finita lì no tu la metti senti la parte fruttata va via la parte fruttata entra la parte legnosa e via dopo va via quella entra la parte c'è ragazzi è un profumo di nicchia con tutta la sua evoluzione stessa cosa vinta in flower parti con una mentuccia senti il floreale dopo escono i legni l'ambra questi sono profumo questo non ha l'evoluzione che ha questo e questo qua ma costa metà quindi profumazione ottima costa metà super prestazioni protezione scorrevolezza posta rasatura cosa devo voler di più che devo spendere il doppio per avere una profumazione buttata lì e comunque con le stesse prestazioni se pago il doppio mi aspetto di avere cose che non mi danno altri marchi questo è il mio punto di vista ragazzi vi saluto ci vediamo al prossimo video